Dopo lo scintillio dei fuochi pirotecnici spettacolari per la festa patronale di San Pietro, il comune di Cetara è pronto ad accendere nuove luci sul territorio della cittadina della Divina Costiera, con l'evento di punta della Notte delle Lampare, ma in maniera più ampia con un cartellone di eventi per promuovere l'estate cetarese. Puntiamo a far crescere sempre più il turismo a Cetara, dichiarato il primo cittadino fortunato della Monica, ed intendiamo promuovere le nostre tipicità e la nostra cultura. Il cartellone di eventi estivi a Cetara, presentato questa mattina a Palazzo Sant'Agostino, sarà inaugurato giovedì 6 luglio da Niente di Meno Swing, i componenti della simpatica banda che animerà la serata organizzata in occasione dell'ottava di San Pietro. Dal lunedì 17 a sabato 22 luglio si celebra Aspettando la Notte delle Lampare, con una serie di spettacoli e cabaret, giungendo a domenica 23 luglio, quando ci si immergerà nelle tradizioni cetaresi con la Notte delle Lampare. Ma l'estate cetarese si caratterizza anche con la rassegna teatrale sul mare Teatri in Blu, che prende il via il prossimo 9 luglio. Puntiamo a far vivere ai nostri ospiti esperienze uniche ed irripetibili, ha sottolineato l'assessore alla cultura Angela Speranza. Alle tradizioni, al fascino dei luoghi, uniamo il buon cibo, perché Cetara si distingue soprattutto per il turismo enogastronomico. Il cibo facilita gli incontri, comunica tradizioni, identità ed appartenenza. E la Notte delle Lampare è l'esempio lampante di un turismo enogastronomico. Abbiamo cercato di diversificare gli eventi, offrendo spettacoli dal cabaret alla musica classica, musica jazz, in attesa del grande evento tanto atteso, la Notte delle Lampare. Infatti dal 17 al 22 avremo una serie di spettacoli in attesa della degustazione, della battuta di pesca, quindi porteremo i nostri ospiti ad assistere realmente, in prima persona, alla pesca delle alici, per poi degustare il pescato. Lampare, possiamo dire, che illuminano un po' l'estate su Cetara, con una serie di programmi e di eventi che richiameranno tantissimi visitatori. Sì, come ogni anno cerchiamo sempre di offrire esperienze, più che il semplice evento. Esperienze vuol dire portare i nostri visitatori a vivere in prima persona l'evento, perché capisca realmente le tradizioni del nostro posto e possa vivere in pieno l'identità di un luogo che rilascia suggestioni davvero molto, molto forti. Cade la 43esima edizione della Notte delle Lampare, proprio nell'anno cinquantenale di costituzione della Pralogo. Quindi si può immaginare, 43 anni di manifestazione di questo tipo, e cinquantenale, quindi è nato quasi con l'istituzione della Pralogo, con questa manifestazione. Solo che nel tempo, in questi 43 anni, ha cambiato dominazione. Iniziò come sagri delle azughe e dei limoni, poi si trasfermò a tutto donno, ed attualmente da sette anni in Notte delle Lampare, che è più proprio per identificare il tipo di eventi che vi hanno fatto a Cetaro. Noi aspettiamo tantissimi visitatori e turisti che vengono da tutte le parti del mondo, come tutti gli anni. E vi voglio far capire che quest'anno non avremo i disagi degli altri anni riguardanti i parcheggi delle autovetture, perché abbiamo potenziato il servizio della Cetaro da e per Salerno, per cui chi ha la macchina può tranquillamente arrivare a Salerno e parcheggiare a Piazza della Concordia e dal vicino porto, ma sul Salernitano, imbarcarsi per assistere alla battuta di pesca della Notte delle Lampare. Le Lampare sono le lampade, quelle che hanno illuminato nel tempo i pescatori. Ricordiamo un po' come nasce questa tradizione. Ecco, è tipica di Cetaro. La Lampare, in effetti, sono delle potenti luci, si arriva fino a 18-20 mila volt, pensate un po' che fascia di luce accecante quando lo si guarda, e ha lo scopo di attrarre in superficie le alici dal profondo del mare. affinché la rete, si chiama il cianciolo, circuisce il branco delle alici per poi essere pescate con la tecnica delle rete specifiche per la pesca delle alici di Cetaro.